Musica Buonasera e ancora benvenuti al nostro telegiornale in apertura di telegiornale il caos della politica Carlo Cottarelli nel pomeriggio è salito al Quirinale ma non ha presentato la lista dei ministri la situazione è molto confusa si parla di una rinuncia all'incarico si potrebbe andare subito al voto in diretta dal Quirinale ci aggiorna Augusto Cantelmi a te Augusto, eccoti qua, ti vedo Buonasera, buonasera a tutti è vero sì, ancora un colpo di scena qui al Quirinale l'ennesimo di questo periodo ma questa volta in qualche modo ci si è superati il governo Cottarelli che doveva nascere questa sera non è nato e forse non nascerà chissà, vedremo ma proviamo un po' a raccontare che cosa è accaduto nella loggia d'onore quella sala dove poi i presidenti caricate i leader dei partiti vengono a fare le dichiarazioni mentre eravamo in attesa i due corazzieri che sono all'angolo della porta hanno lasciato la sala e sono andati via quindi sconcerto che cosa sta accadendo non riusciamo a capire poi qualcuno addirittura ha detto guarda che abbiamo visto delle foto che dicono che ritraggono Cottarelli alla camera quindi è uscito che cosa è accaduto quindi sconcerto e caos poi è arrivato il portavoce del capo dello Stato Giovanni Grasso e ha detto queste parole ascoltiamo è arrivato il capo dello Stato e lo Stato della situazione i due si rivedranno domani mattina si rivedranno domani mattina così Giovanni Grasso il portavoce del presidente della Repubblica ma proviamo un po' a ricostruire che cosa è accaduto e quello che potrebbe accadere nel corso dell'incontro al Quirinale Cottarelli ha fatto il punto della situazione al presidente della Repubblica e ha deciso di prendere tempo per completare la sua squadra di governo forse e questa sarebbe la prima ipotesi la seconda e qui veniamo alla sorpresa Cottarelli potrebbe anche valutare fino a che punto ci sia convergenza tra le forze politiche per andare al voto il prima possibile Cottarelli in questo momento sta facendo e farà anche nel corso della serata un giro di consultazioni con le forze politiche ed entro domani tornerà al Quirinale per riferire al capo dello Stato l'ipotesi riguarderebbe il voto anticipato per il 29 luglio questa richiesta del voto anticipato al 29 luglio è arrivata soprattutto dal Partito Democratico ma subito sostenuta dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega Contraria invece Forza Italia a questo punto a guidare il governo al voto diciamo alla fine di luglio non sarà Cottarelli quindi col suo nuovo governo ma potrebbe essere Gentiloni a guidare e curare diciamo per l'amministrazione ordinaria fino al voto del 29 luglio si va dunque al voto anticipato questo sembrerebbe ma tutte le ipotesi restano ancora sul campo perché potrebbe essere questo un segnale anche nei confronti dei mercati e mettere diciamo a riparo il paese dalle incertezze e oggi ne abbiamo avuto una grande testimonianza domani comunque Cottarelli tornerà al Quirinale farà il punto della situazione e forse noi avremo delle idee un po' più chiare anche da raccontare comunque con questo è tutto dal Quirinale e domani vedremo che cosa accadrà linea allo studio grazie Augusto Cantelmi ma il pomeriggio di oggi è stato reso rovente anche da una dichiarazione sbagliata attribuita al commissario europeo per il bilancio Oettinger nell'anticipazione di un'intervista un giornalista aveva riportato la frase i mercati insegneranno agli italiani a votare furiose le repliche anti-europee non solo da Lega e 5 Stelle ma da tutto l'arco costituzionale il cronista tedesco si è poi scusato per l'errore ha diffuso la versione corretta del passaggio dell'intervista incriminato il commissario Oettinger in realtà aveva detto la mia preoccupazione è che lo sviluppo dei mercati in Italia dei bond dell'economia diventi così radicale da diventare un segnale per gli elettori convincendoli a non votare per i populisti di destra e di sinistra e anche oggi lo spread è schizzato in alto attestandosi alla chiusura delle contrattazioni attorno ai 300 punti i mercati sono nervosi per la situazione politica italiana di un'emotività colpa di un'emotività degli investitori che si ripercuote sullo spread ha detto oggi il governatore di Banca Italia Ignazio Visco nelle sue considerazioni finali sentiamo Luigi Ferrabiolo L'economia italiana è in recupero la crescita del PIL è andata al di là delle previsioni anche la crescita di consumi e occupazione sia pure con gli squilibri che gravano sui giovani e il mezzogiorno infatti nel sud il PIL è più basso di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2007 sono le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sullo stato del paese però i miglioramenti non devono indurre l'Italia ad abbassare la guardia perché la crescita è inferiore a quella del resto d'Europa lo scorso anno il divario è stato di un punto percentuale inoltre la produttività rimane bassa rimangono le inefficienze della pubblica amministrazione l'elevata tassazione dei fattori della produzione resta però elevata la disoccupazione soprattutto nel mezzogiorno e tra i giovani i nuovi ammortizzatori sociali hanno cresciuto alla copertura per i disoccupati senza generare eccessivi disincentivi alla ricerca di lavoro stentano invece a emergere gli effetti del nuovo regime di politiche attive la quota di persone che beneficiano del sussidio di disoccupazione senza cercare attivamente un lavoro non è scesa il governatore fa un passaggio anche sulle polemiche politiche in corso che riguardano i conti pubblici senza mai citarle ovviamente tocca temi come pensioni e debito evidenziando che si può riformare il sistema per renderlo più efficiente ma non può essere la volontà di ottenere risultati immediati a dettare l'agenda è evidente a tutti la delicatezza del momento aggiunge Visco ricordando che lo spread in crescita i mercati in discesa hanno una componente esclusivamente emozionale ed è grave non vi sono giustificazioni se non emotive per ciò che osserviamo oggi sui mercati le norme entro cui operiamo aggiunge possono essere discusse criticate migliorate ma non possiamo prescindere dai vincoli costituzionali la tutela del risparmio l'equilibrio dei conti rispetto dei trattati e la crisi politica italiana indebolisce anche la posizione internazionale del nostro paese oggi all'Eliseo il presidente Macron ha convocato un vertice per la stabilizzazione della Libia proponendo la Francia come il paese garante un ruolo tradizionalmente svolto dall'Italia come ci spiega Luciano Piscaglia si voterà il 10 dicembre in Libia si chiude con un'intesa non firmata ma approvata informalmente la conferenza internazionale convocata a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron un accordo tra le parti sulle elezioni politiche e presidenziali in quello che è il paese più caldo del Mediterraneo e del Nord Africa otto punti dedicati al calendario e alle regole del voto ma anche alle condizioni per avviare il necessario dialogo per riunificare istituzioni e forze armate in un paese che non ha una legge elettorale ed una costituzione da tutti riconosciuta ed accettata sul documento avrebbero raggiunto un accordo il presidente del consiglio presidenziale libico Fayez Serrai e il generale Khalifa Haftar insieme al presidente dell'Alto Consiglio di Stato Khaled Al Mishri e al presidente del Parlamento con sede a Tobruk Agila Saleh una conferenza boicottata invece da milizie e gruppi politici di importanti città della Tripolitania che hanno accusato la Francia di favorire il generale Haftar che fu tra i primi e più fedeli collaboratori di Muammar Gheddafi il presidente francese che ha inviato i propri emissari a Tripoli e Benghazi per invitare i principali leader libici all'Eliseo incassa però un importante successo diplomatico Macron che riporta la Francia in posizione strategica sulle vicende libiche ha ringraziato l'Italia per l'impegno esemplare tenuto in Libia ma l'Italia per la gravissima crisi politica ed istituzionale che sta attraversando è stata la grande assente alla conferenza parigina e adesso andiamo in Belgio a Liegi dove due poliziotte e un passante sono stati uccisi da un uomo neutralizzato poi dalle forze dell'ordine il killer che era uscito di carcere solo ieri mentre uccideva avrebbe gridato Allah Akbar Dio è grande sul caso indaga la procura antiterrorismo il servizio di Francesco Durante avrebbe urlato Allah Akbar il grido dei jihadisti prima di essere ucciso dalle forze dell'ordine l'uomo che questa mattina a Liegi in Belgio ha iniziato a sparare nel centro della città Benjamin Hermann questo sarebbe il nome dell'aggressore 36 anni di nazionalità belga era stato fermato dalla polizia per un controllo ma aveva reagito ferendo più volte con un coltello due poliziotte poi si era impossessato della pistola di una di loro e aveva aperto il fuoco su entrambe le agenti uccidendole durante la sua fuga tra la gente terrorizzata il killer ha fatto anche un'altra vittima che si trovava a bordo di un'auto parcheggiata in zona alla fine si è barricato in un liceo prendendo in ostaggio una detta alle pulizie rimasta illesa perché l'assassino poco dopo è stato colpito a morte dagli agenti delle forze di sicurezza Hermann più volte detenuto per reati comuni dal profilo psicologico instabile violento e solitario per gli inquirenti potrebbe essersi radicalizzato in carcere da cui era uscito proprio ieri per un permesso secondo la procura federale di Diegi a cui sono affidate le indagini sulla sparatoria ci sono elementi che fanno pensare ad un atto terroristico un'azienda in difficoltà un patto tra proprietà e lavoratori per rimetterla in pista e così in 400 finiscono in cassa integrazione ma le cose per la Beltrame di Vicenza oggi vanno decisamente meglio e l'azienda ha deciso di restituire il denaro a cui hanno dovuto rinunciare i suoi dipendenti vediamo il servizio aziende virtuose che hanno a cuore più i dipendenti che il profitto su questa linea la Beltrame Group ha scelto di restituire ai suoi dipendenti i soldi persi nella crisi con gli ammortizzatori sociali della cassa integrazione questo premio ha due premesse importanti da un lato una collaborazione trasparente e responsabile con le organizzazioni sindacali la seconda premessa sono i risultati dell'azienda che in questi anni sono via via migliorati fino a raggiungere un livello straordinario nel 2017 ben oltre le aspettative il gruppo Acciaierie Beltrame è una realtà con tre stabilimenti in Italia a Vicenza a San Giovanni Valdarno e a San Didero sono presenti anche all'estero con un totale di più di 2000 dipendenti quando la crisi nel 2014 e nell'inizio del 2015 si è abbattuta sul gruppo ha chiesto aiuto ai suoi dipendenti che con un ridimensionamento dei costi ne hanno favorito la ripresa oggi quei dipendenti sono stati risarciti dei grandi sacrifici compiuti abbiamo preso l'impegno con le organizzazioni sindacali appunto di restituire questo disagio economico questo si è avverrato e è stato creato diciamo una montante di circa 300.000 euro che è stato redistribuito ai lavoratori che hanno fatto il sacrificio nel 2017 la scelta la scelta della Beltrame sottolinea quanto le risorse umane i dipendenti dell'azienda siano considerati una risorsa insostituibile e fondamentale per il progresso e il successo dell'intera realtà aziendale tutti possono avere gli impianti tutti possono avere la disponibilità economica ma quello che veramente fa la differenza sono i lavoratori e adesso parliamo di inquinamento l'Unione Europea punta il dito contro la plastica e in arrivo una direttiva per eliminare contenitori e utensili in manuso fatti proprio di plastica sentite Marco Bergamaschi il vecchio continente verso l'addio alla plastica o quasi la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva contro l'inquinamento appunto da plastica la proposta che va approvata da Europarlamento e Consiglio Europeo intende vietare tra l'altro la vendita di stoviglie cannucce cucchiaini per bevande cotton fioc entro il 2025 gli stati dell'Unione dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica a monouso per bevande per esempio con sistemi di cauzione deposito per i contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica ciascun stato dovrà fissare obiettivi nazionali di riduzione i produttori saranno chiamati a coprire i costi di gestione dei rifiuti per mozziconi di sigaretta palloncini attrezzi da pesca assorbenti igienici e salvette umidificate dovranno poi avere un'etichetta chiare standard per indicare il loro impatto negativo sull'ambiente positivo il commento delle associazioni ambientaliste che tuttavia considerano la proposta solo un primo passo esempi virtuosi esistono già anche in Italia come sulle isole Trimiti dove dal primo maggio vige il divieto per le stoviglie di plastica per difendere mare e territorio secondo un rapporto dell'Ox nel mondo solo il 15% della plastica viene riciclata un quarto viene consumato in inceneritori e termovalorizzatori il restante 60% va in discarica finisce bruciato all'aperto rilasciando inquinanti o finisce nell'ambiente e adesso andiamo nello stato indiano del Tamil Nadu dopo le proteste della scorsa settimana in cui hanno perso la vita 13 persone proteste promosse anche da parrocchie cattoliche nel nome dell'enciclica laudato si del Papa sono stati messi i sigilli alla fonderia di rame del gruppo Vedanta sotto accusa per inquinamento ambientale il racconto di Silvio Vitelli abitazioni devastate carcasse di auto e moto e purtroppo anche quelle di esseri umani è ciò che resta dei violenti scontri avvenuti nello stato indiano del Tamil Nadu la scorsa settimana la protesta andava avanti da 100 giorni quando l'esercito ha sparato contro la folla uccidendo 13 persone una mossa che ha suscitato un tale sdegno da finire per cedere alle richieste dei manifestanti che invocavano di fermare il nuovo maximpianto per la produzione di rame che aveva peggiorato le già terribili condizioni dell'aria dell'acqua dovute allo stabilimento esistente da oltre 20 anni tra i feriti c'è un sacerdote cattolico come pure cattoliche erano 4 delle 13 vittime a guidarci spiega l'arcivescovo di Madras Mailapore è l'enciclica di Papa Francesco laudato si in difesa dell'ambiente soprattutto di quanti per sopravvivere dipendono dai doni del creato quando il governo indiano ha inviato un suo ministro nell'ospedale dove sono ricoverati i manifestanti feriti l'accoglienza non è stata affatto delle migliori non ci prenda in giro pensi a trattarci come esseri umani gli ha detto questa donna indicando suo figlio ferito cosa farebbe se fosse il suo di figlio oltre allo stop all'impianto una seconda la tegola cade ora cade ora sul colosso minerario l'amministrazione pubblica ha ritirato il nulla osta al progetto di ulteriore espansione dell'impianto in nome di un più ampio interesse pubblico hanno scritto nella nota ufficiale l'instabilità politica dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo ha provocato in questi anni moltissime tragedie di migranti che scappano da guerre e carestie l'unica alternativa sono spessi corridoi umanitari come quelli che organizza Sant'Egidio oggi l'arrivo a fiumicino di una sessantina di profughi siriani c'era per noi Beatrice Bossi l'abbraccio di Abir a suo nipote è una delle immagini più belle della mattinata lei profuga siriana rimasta vedova per colpa della guerra e appena sbarcata a fiumicino con i suoi due figli qui ha ritrovato un pezzo della sua vecchia vita e sempre da qui con suo nipote comincerà a costruire i pezzi di quella nuova loro sono scappati da Homs sono andati in Libano l'attuale un anno sono scappati in Libano e hanno fatto la domanda alla fontà Sant'Egidio un anno fa che cosa le ha detto sono appena arrivati è stato un viaggio lungo sì un viaggio molto lungo erano stanchi morti però passano su tutto in quanto hanno la speranza di arrivare di star meglio sono arrivati a Roma questa mattina all'alba con un volo diretto da Beirut domani saranno a Porto Mantovano dove la comunità li aspetta a braccia aperte l'anno scorso è stato deciso di fare questa esperienza di accoglienza fortemente voluta da parecchie persone dal paroco ci siamo trovati anche bene anzi alla fine è stato anche affermato che è stato un anno di grazia per noi e poi loro sono dati via in dicembre perché si sono trasferiti in Germania e quindi avevamo altre opzioni anche per l'utilizzo dell'alloggio che è un alloggio anche abbastanza una casetta piccola però diciamo così decorosa e la comunità ha deciso di fare l'accoglienza di un'altra famiglia insieme alla famiglia di Abir altre 63 persone sono sbarcate oggi a Fiumicino tutte siriane tutte arrivate legalmente tutte accolte in Italia con un visto umanitario si chiamano corridoi umanitari ed è una iniziativa promossa dalla comunità di Sant'Egidio dalla chiesa valdese e da quella evangelica in accordo con il governo italiano e ora una nuova e sorprendente scoperta Pompei riemerge lo scheletro dell'ultimo fuggiasco così lo hanno definito gli archeologi un uomo morto mentre tentava di scappare dalla furia del Vesuvio vediamo insieme il servizio di Alessandra Camarca una nuova sensazionale scoperta al parco archeologico di Pompei dalle ricerche archeologiche in corso nella zona dei nuovi scavi il reggio quinto emerge lo scheletro di un uomo colpito a morte da un masso staccatosi dal crollo dei palazzi a causa della furia del vulcano il corpo è stato ritrovato in prossimità del vicolo dei balconi sbalzato all'indietro dalla potenza della nube piroclastica secondo le prime analisi antropologiche si tratterebbe di un uomo sopra i 30 anni con lesioni alle tibie che avrebbero reso difficile alla vittima camminare impedendoli di fuggire ai primi segnali che precedettero l'eruzione del Vesuvio un individuo adulto di almeno di 30 anni di circa un metro e 65 maschio e che tra l'altro cade sul suo dorso in maniera singolare perché questo lascerebbe presupporre che scappava verso il Vesuvio cosa un po' bizzarra forse piuttosto si è girato quando ha capito che arrivava il flusso il flusso l'ha completamente avvolto travolto secondo la ricostruzione del team che segue gli scavi nel luogo del ritrovamento le case erano in parte crollate nel vicolo si erano depositati già due metri di lapilli la pioggia di cenere calda aveva ingoiato gli affacci al piano terra delle abitazioni il povero fuggiasco Claudicante deve aver tentato il tutto per tutto riuscendo ad uscire in strada da una finestra del primo piano ma non è andato lontano rimaniamo in campagna per raccontarvi la storia di alcuni ex detenuti che raccontano ai bambini la loro storia per aiutarli a scegliere la buona strada e non la cattiva il servizio da maestri di malavita a maestri di vita da un lato che ha commesso degli errori e sta scontando una pena in carcere dall'altro bambini che cercano ogni giorno di non percorrere strade sbagliate nonostante vivano in un quartiere difficile a pochi passi dalle case celesti la storica roccaforte della camorra a Napoli su un campo di calcio detenuti alunni si sono incontrati per una lezione molto particolare i reclusi del carcere di Secondigliano hanno risposto alle domande dei più piccoli spiegando che un'alternativa alla malavita esiste basta solo saperla riconoscere in tempo secondo me si può dare un calcio alle cattive abitudini chiamiamolo cattive abitudini perché dando un calcio a un pallone si potrebbero superare tutte queste cose negative dico ai giovani di seguire i propri sogni e il proprio futuro perché il nostro futuro sono loro l'obiettivo della seconda edizione del torneo Fair Play Event Cup è quello di costruire un futuro diverso insieme l'opportunità innanzitutto è quella del riscatto dei nostri lì che detenuti e soprattutto io direi questi ragazzi che vedendo in questa situazione particolare come siamo vedendo queste persone che nella loro vita hanno fatto degli sbagli non li facciano anche loro ma possono essere di esempio anche per gli altri amici che oggi lì non sono qui con loro per portare questo annuncio questo messaggio di gioia e di pace non c'è santità senza libertà è il tema dell'omelia della messa a Santa Marta di Papa Francesco Paolo Fucili Diventate santi anche voi esorta San Pietro prima lettura di oggi ma non pensate ad avere visioni a preghiere elevatissime avverte Francesco celebrando messa a Santa Marta il tema santità è caro peraltro a Bergoglio che di fatti gli ha appena dedicato un lungo denso documento però bisogna essere chiari è il senso del suo tornarci oggi santità e camminare nella speranza spiega protesi verso l'incontro con Cristo poi dice ancora San Pietro non conformati via i desideri di un tempo cioè al modo di pensare e giudicare del mondo secondo il commento del Papa in altre parole nei momenti della prova noi abbiamo sempre la tentazione di guardare indietro agli schemi del mondo così facendo però non siamo più liberi e senza libertà non si può essere santo la libertà è la condizione per poter camminare guardando la luce avanti insomma non basta certo avere una faccia da immaginetta però essere santi secondo Francesco nemmeno è qualcosa di straordinario non entrare negli schemi della mondanità camminare avanti guardando la luce che è la promessa in esperanza questa è quella promessa come il popolo e con questo è tutto per il nostro telegiornale adesso il consueto post la terza età non è solo fragilità del corpo e malinconia ma un volto dell'esistenza umana fatto soprattutto di saggezza e consapevolezza e la vecchiaia che Enzo Bianchi fondatore della comunità di Bose racconta nel suo ultimo libro io vi saluto e vi do appuntamento alle 20 e 30 e alla prossima edizione del nostro telegiornale